Eccoci qua, buongiorno, 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 ma soprattutto buongiorno nuovamente in onda in diretta, è venerdì, quindi cosa succede il venerdì? Il venerdì succede un sacco di cose, intanto arriva il weekend, quindi per chi non lavora il weekend, insomma è quel giorno un po' di relax, non sta arrivando il weekend. Per chi lavora il weekend, sperando che sia un lavoro divertente, ancora più bello, e soprattutto parliamo di eventi, quindi continuiamo a parlare di eventi, curiosità del nostro territorio, tante le news di questa giornata e torna a trovarci, diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, arriva, torna con noi, Monica Massarotti, coordinatrice Strada del Vino Valpolicella. Ciao Monica! Ciao, 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 io sono una di quelle che lavorerà nel weekend, però bene, è una cosa divertente, un lavoro divertente, che è molto importante, anche perché ricordiamo che fare il lavoro che si ama non è una cosa scontata, però è bello. Così almeno lavorare il weekend non è una cosa tragica. Monica, come stai? È passato un po' di tempo. Sì, sono passati due anni, benissimo, sì, volati veramente, non ne sono nemmeno accorta, tutto benissimo, noi si lavora sempre tantissimo, si fa promozione del nostro territorio, quindi ci si diverte. Anche perché ricordiamo che promuovere il territorio non è la classica frase scontata, cioè c'è un lavoro dietro, ma è sempre molto importante. Diciamo che gli altri vedono la parte divertente, noi facciamo l'altra parte ma ci divertiamo pure. Eh già, che è importante. Quindi, allora, strada del vino Valpolicella, intanto in 30 secondi com'è, che cos'è strada del vino Valpolicella? Allora, velocissima, è un'associazione no profit che si occupa di promuovere il territorio della Valpolicella. Non soltanto per quanto riguarda il vino, vabbè si chiama strada del vino perché ovviamente il vino la fa da padrone, ma anche per quanto riguarda la cultura, il territorio e la gastronomia. Quindi ecco, diciamo che ci occupiamo di cose belle. Bene, beh, sicuramente belle, buone, divertenti. Eh certo, beh, insomma questo è importante. E proprio per questo quindi si parla anche di eventi. Assolutamente sì, diciamo che il modo per promuovere al meglio il nostro territorio sono gli eventi. Ne facciamo parecchi durante l'anno e giusto questa domenica, visto che lavoro, è perché c'è un bellissimo evento che si terrà proprio in Valpolicella. Attenzione, è qua signori, carta e penna, se usate carta e penna, usatela perché è importante, è importante. Eventi, questa domenica cosa succederà nella zona della Valpolicella? Partendo da, poi insomma capiamo anche il famoso partendo da. Partendo da. Allora, questa domenica ci sono dieci cantine del nostro territorio aperte. Sì. E Valpolicella non soltanto classica, ma anche la Valpolicella estesa perché abbiamo anche delle cantine dalla parte est della Valpolicella. Perché ricordo che la Valpolicella è tutta e comprende anche la parte estesa perché producono il vino Valpolicella. Certo. Così almeno uno riesce a vedere anche le diversità tra le varie vallate e è interessante avere anche altre prospettive. Giusto. Quindi queste dieci cantine terranno le porte aperte. I nostri visitatori potranno tramite un biglietto fare una degustazione di due vini in ogni cantina. Sì. Nel biglietto sono compresi due vini e anche la visita della cantina. Wow. Che è una cosa molto interessante perché veramente uno scopre tutti i segreti dei nostri vignaioli che sono interessantissimi. Non sarà poi facile farle tutte perché è visita. Allora no. Diciamo che di solito se ne fa una media di 3-4. Ovviamente poi uno non è costretto a bere due vini in ogni cantina. Quindi se vuole fare un pochettino più di visite fa un vino solo e poi passa alla successiva. Ah beh. L'essenziale comunque è rilassarsi e godere la bellezza delle cantine e la bontà del vino. Oltre a questo, ovviamente perché non vi vogliamo tutti ubriachi, ci sarà la possibilità di acquistare dei prodotti tipici, piatti caldi, quindi taglieri, piatti caldi, in modo tale da passare la giornata in bellezza e rilassarsi e godere di buon cibo e buon vino. Poi domenica, se non erro, ma non voglio dire, mettono bel tempo per ora, per ora, non abbiamo deciso noi, lo deciso anche chi ha scritto, dicono. Sì, lascia perdere che la settimana scorsa era prevista pioggia, quindi erano terrorizzati. Comunque, anche in caso di pioggia, le cantine hanno posto all'interno. Certo, certo. Assolutamente. L'evento c'è. L'evento c'è in ogni caso. Bene, beh, questo è importante. Allora, a tal proposito, andiamo a nominare un po' anche le cantine a questo punto. Assolutamente sì. Allora, le cantine sono Porte Martini, Flatio, I Latium Morini, Le Bignele, Marco Cottini, Mizzon, Neposville, Novaia, Talestri e Tenuta Fasoli Lorena. Wow. Quindi c'è una bella varietà, diciamo. Una bella varietà è come, anzi, le stiamo anche vedendo a monitor grazie alla nostra regia, che in questo caso sono io. Grazie, grazie. Sei bravissimo. Io penso che ogni volta che succedono, insomma, qualche errorino così di regia, dico regia, regia. E poi sei tu. Ti ha anche io detto ogni tanto. No, ma non sono stata io, ma tanto sono io. Il social media manager ha sbagliato. Vabbè. Comunque, tante le cantine, soprattutto anche, parliamo come si diceva, cibo per chi volesse. Assolutamente sì. Però, allora, detto questo, a che ora parte, come ci si muove, qualche altro piccolo dettaglio. Poi un'altra curiosità, perché ho già visto nel vostro sito delle altre cose. Andato a spiare. Eh sì, tra un po', tra un po' arriviamo dunque. Allora, l'evento parte alle 10 di mattina e finisce alle 18. Ovviamente, chi vuole venire può venire a qualsiasi orario, non è che c'è un orario di partenza. Anche perché la cosa bella è che si è libero di fare quello che si vuole. Quindi, tu vuoi arrivare alle 11, fare una cantina, farne un'altra, senza nessun problema, puoi andare dove vuoi, come vuoi, quando vuoi. Entro alle 18 però, perché se no poi diventa difficile. E come ci si muove? Come ci si muove? Allora, ci si muove in macchina, perché comunque le cantine tra due loro sono distanti. Certo. Se poi io non ho il dato, oppure alla bicicletta elettrica, puoi provare anche in bicicletta. E allora, ecco, allora sapete già cosa fare questa domenica, in che modo, come muoverli e tutto quanto. Poi sul sito tutte le info e i dettagli. Assolutamente sì. Strada del vino valpolicella.it, cliccate, cercate, insomma, siete pratici, no? Ecco, hai nominato una parola chiave, hai detto bicicletta, bici, bike. Assolutamente sì. Ecco, io ho una parola chiave per te, andiamo a vederla insieme. Eccolo qua. Che cos'è e che cosa succederà il 20 aprile? Sì, che è il giorno del mio compleanno. Quindi lavoro è il giorno del mio compleanno, però è bello. Attenzione, attenzione. Visto che sono ciclista, mi piace pure, l'abbiamo fatto quasi apposta. Anche se ricordiamo, cioè, come se solo dire, no, chi compie gli anni, solitamente, paga da bere. E in questo caso, in realtà, no, 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 i biglietti, biglietti. Poi tu devi lavorare, devi lavorare. Io devo lavorare, quindi in quel caso mi offro loro da bere, dai, le cantine sono carine. E infatti cosa succederà proprio a tema, si parla di bike. Sì, allora, perché si parla sempre di green, di sostenibilità, anche noi abbiamo creato un evento, questa è la seconda edizione di quest'anno, del Buy Bike Valpolicella. Quindi abbiamo creato due percorsi da 40 chilometri, uno un pochettino più difficile, uno un pochettino più facile, dove si toccano le cantine che partecipano a questo evento. Sono nove cantine, sempre con porte aperte dalle 10 alle 18, sempre con la degustazione, questa volta di un calice in ogni cantina, perché visto che dovete muovermi in bicicletta, insomma, stiamo più attenti. E tranquillamente si può girare in bicicletta, perché sono percorsi creati tramite il nostro partner Itinerabike, che non toccano le vie principali del traffico cittadino. Sono un pochettino più, infatti ci sono parte delle strade che sono sterratine, quindi consigliate a mountain bike, bike, bici da corsa, o meno che siete super pro, che ci sono anche quelli che vanno in bici da corsa sullo sterratino. Tutte cose comunque facili. Insomma, diciamo per tutti comunque. Assolutamente per tutti, e se uno è invece un pochettino più allenato, si può fare tutti e due i percorsi, quindi 80 km, toccare tutte le cantine, perché no? Beh, bellissimo questa cosa, qui c'è, quindi tra vino e bici è un attimo, insomma, è un attimo. Assolutamente. Tu partecipi, tu l'hai già fatto? Io l'ho fatta l'anno scorso, sì. Com'è stata? Bellissimo, veramente è molto bello, anche perché è divertente girare in bici, è bello vedere tutte queste biciclette che girano per la Valpolicella. Bello. E anche, pensa, è successa una cosa stranissima, nel senso che c'è stato un signore che a un certo punto si avvicina e fa, ma chi è che ha organizzato tutto questo? Comparo un po', il ragazzo che noleggiava le biciclette, che è un po' timoroso, e fa, no, la strada del Benovalpolicella. E il signore fa, bravissimi, bravissimi, biciclette sul territorio. Beh. Quindi ecco, piace. Bello, ecco, stiamo vedendo anche dei video molto belli, proprio i vostri video, bellissimo, strano. Lo ci sono io, perché non abbiamo soldi per le modelle. Siete perfetti, guarda che squadra, ma soprattutto, questo non è solo, cioè non hai solo fatto la parte di video, tu il percorso l'hai fatto. L'hai pure fatto. Assolutamente, sì, 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 l'ho fatto, è molto bello, veramente. Monica, ti ringrazio per essere stata oggi con noi, ci sarebbe ancora tanto da dire, non facciamo passare altri due anni, magari. Assolutamente no, aspetto un tuo invito allora prima. Certo, 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 mi raccomando. E oltretutto, ricordiamo ancora una volta, sulla pagina Facebook cercate Info Valpolicella, potete cliccare, lasciate il vostro mi piace, tra like e mi piace qua, è più o meno la stessa cosa, ma parliamo nel linguaggio Facebook, lasciate il vostro mi piace sulle pagine e soprattutto visitate stradadelvinovalpolicella.it per scoprire tutto, direi. Sì, aggiungo anche una piccolissima cosa, quando visitate il sito potete iscrivervi alla newsletter, che così almeno siete aggiornati su tutto, perché io ogni mese vi mando una newsletter. Difatti, appena ho aperto il sito, pam, iscrivetevi ragazzi, iscrivetevi, almeno ricevete qualcosa di utile, di bello. Sì, almeno non perdete gli eventi. Ecco, importante. Monica, grazie davvero. Grazie a te. Torna a trovarci. Evviva! Andiamo avanti con la musica, grazie ancora Monica Massarotti, coordinatrice Strada del Vino Valpolicella, ti ringraziamo ancora una volta e poi andiamo avanti con la musica. Nel frattempo, se vi siete collegati soltanto in questo momento, vi siete persi la puntata, sulle nostre pagine Facebook potete rivedervi tutta la puntata e segnarvi le date importanti. Ci vediamo tra un po', 3, 2, 1, musica.